Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel percorso che porta tutti i pellegrini della cripta di Santa Maria delle Grazie alla cella di Padre Pio. Qui, tra varie fotografie di conventi della provincia religiosa di Sant'Angelo e Padre Pio, proprio questo convento, il convento di Sant'Elia Pianesi, che ha visto la presenza di Padre Pio per tre anni, dal 1904 al 1907. Un convento importante perché qui Padre Pio alla fine di gennaio del 1907 emise i voti della sua professione perpetua. E in questo periodo, tra il 1904 e il 1907, i frati insieme al loro padre precettore, padre Giustino, da San Giovanni Rotondo, facevano spesso delle passeggiate. Ecco, di una passeggiata in particolare ci vuole ricordare una cara amica di Padre Pio TV, su Orcandida Trattichizzo, che lei segue le nostre puntate e vuole condividere proprio questo momento particolare della vita di Padre Pio. Ci ha passato un articolo, un articolo di giornale, dove si racconta della testimonianza di Antonio Vincelli, che è un abitante di Casa Calenda e racconta la sua amicizia con uno dei primi medici che ha avuto modo di incontrare questo giovane frate, questo ragazzo che aveva quasi vent'anni e cominciò ad accusare i primi malori. Si tratta del dottor Francesco Nardacchione di Casa Calenda. Vincelli ci racconta proprio un episodio, un episodio particolare che accadde a Casa Calenda. Il motivo era proprio quello di andare a visitare la mamma di un frate, padre Paolino di Tommaso. Durante il tragitto proprio di ritorno verso il convento, al Santuario della Difesa, scoppiò un grande acquazzone. I frati Cappuccini chiesero riparo dai frati Francescani, al convento di Santo Onofrio. E qui vado direttamente sulle parole di Vincelli. Quando avevano da poco superato il paese e imboccato la strada di campagna che portava alla chiesa, si scatenò un improvviso e violento acquazzone che obbligò il gruppo di frati a tornare precipitosamente verso il convento. Il saio di padre Pio era talmente bagnato che fu costretto a toglierselo per farlo asciugare. E siccome non ne aveva uno di riserva, gli fu dato quello di un frate minore, che ovviamente era diverso da quello dei Cappuccini, creando un certo imbarazzo in lui. Poche ore dopo, quel rientro precipitoso, gli venne un forte raffreddore, una tosse fastidiosa. E da allora, raccontava lo stesso padre Pio, sono peggiorati i miei mali e le sofferenze polmorari che mi hanno sempre accompagnato per tutta la vita. Ecco, questo strano, imbarazzante fatto della vita di padre Pio dove dovette indossare, sì, il saio di San Francesco, ma dei frati minori. Dove lo stesso Nardacchione fu proprio il primo ad andare a constatare quello che accade in questo ragazzo. Indebolimento respiratorio alla base del polmone destro, indebolimento e intermittenza all'apice del polmone sinistro, tosse secca, stimolante, dolori notturni, febbre continua, ma trattasi di una bronchoalveolite incipiente nel primo stadio. Questa la diagnosi del dottor Nardacchione, che non solo legata a quel periodo, ma l'amicizia tra padre Pio e il medico, non si interruppe mai e proseguì anche quando il santo frate Cappuccino giunse qui a San Giovanni Rotondo e il dottor Nardacchione nei primi tempi veniva proprio qui, fino a quando poi non poté più per la sua età, ma soprattutto anche perché lui volò al cielo nel 1936. Grazie, grazie Sor Candida per aver condiviso questo fatto importante per la storia di padre Pio. Grazie a tutti.